Di Hans Christian Andersen, La famiglia felice, voce di Lorenzo Pieri. La più grande foglia verde che esista nel nostro paese è certamente quella di farfaraccio. Se la si tiene davanti al pancino fa proprio da grembiule e se la si mette in testa quando piove copre quasi come un ombrello, tanto è grande. Una foglia di farfaraccio non cresce mai sola, ma dove ne spunta una? Ne spuntano tante che è una bellezza e questa bellezza se la mangiano le lumache. Le grosse lumache bianche che una volta le persone distinte facevano cuocere in fricassea e poi mangiavano dicendo mmm che bontà ed erano veramente convinti che fossero buone, vivevano di foglie di farfaraccio che venivano seminate per loro. C'era dunque una volta un vecchio castello dove nessuno mangiava più lumache e di esse si era estinta alla razza, ma quella delle foglie di farfaraccio non si era estinta ed esse crescevano sempre più rigogliose in tutti i viali e in tutte le aiuole. Non era possibile arrestarle, formavano ormai un intero bosco e se qua e là non si fossero levati un melo o un prugno non si sarebbe mai potuto pensare di essere in un giardino dato che non si vedevano che foglie di farfaraccio. Fra esse abitava l'ultima coppia di lumache, vecchie decrepite. Quanti anni avessero, non lo sapevano nemmeno loro, ma si ricordavano benissimo di essere state molto più numerose, di essere di origine straniera e che tutto il bosco era stato piantato per la loro famiglia. Non erano mai uscite di lì, ma sapevano bene che al mondo esisteva anche qualcosa chiamato castello e che là si era cucinati per poi, una volta diventati neri, esser messi su un vassoio d'argento. Di quel che accadesse in seguito nessuno aveva un'idea. Cosa significasse essere cucinati ed essere posti su un vassoio d'argento non potevano immaginarselo, ma pensavano che fosse una cosa bellissima e certo molto distinta. Né il maggiolino, né il rospo, né il lombrico sapevano rispondere alle loro domande in proposito, perché nessuno di loro era stato cucinato e deposto su un vassoio d'argento. Che le vecchie lumache bianche fossero le più distinte del mondo, questo lo sapevano, e anche sapevano che il bosco esisteva per loro uso e consumo, e che il castello c'era solo perché esse potessero venire cucinate e messe su un vassoio d'argento. Facevano una vita molto solitaria e felice. Dato che non avevano figli, avevano adottato un lumachino di quelli comuni e l'avevano allevato come se fosse loro. Ma il piccolo non cresceva mai perché era di razza comune. Ai vecchi, però, e specialmente a mamma lumaca, sembrava proprio che fosse cresciuto. Mamma lumaca disse al marito che, se non lo vedeva, poteva tastare il guscio del lumachino. Papà lumaca lo fece e si convinse che la vecchia aveva ragione. Un giorno piove addirotto. «Senti che tam tam sulle foglie di farfaraccio», disse papà lumaca. «Vengono giù anche dei goccioloni», rispose mamma lumaca. «Corrono giù lungo il gambo. Vedrai come tutto sarà bagnato. Son contenta che abbiamo la nostra casa e che anche il piccolo abbia la sua. «Bisogna dire che per noi è stato fatto più che per tutte le altre creature. Siamo proprio degli esseri privilegiati in questo mondo. Nasciamo già con la casa e il bosco di foglie di farfaraccio è stato piantato per noi. Mi piacerebbe sapere quanto è grande e cosa c'è al di là». «Al di là non c'è un bel niente», dichiarò papà lumaca. «Da nessuna parte si può star meglio che qui da noi e io non ho proprio nulla da desiderare». «Io sì, invece», replicò mamma lumaca, «mi piacerebbe andare al castello ed esser cucinata e deposta su un vassoio d'argento, come è successo a tutti i nostri antenati. Certo, ne vale la pena, credi a me». «Con ogni probabilità il castello è caduto in rovina», borbottò papà lumaca. «O il bosco di foglie di farfaraccio lo ha coperto così che gli uomini non possono più uscirne. Del resto non c'è nessuna fretta, ma tu corri sempre come una pazza e il piccolo comincia a fare altrettanto. Son già tre giorni che si sta arrampicando su quel gambo. Mi gira la testa al solo vederlo». «Non devi inquietarti», lo ammonì mamma lumaca. «Si arrampica con tanta prudenza e ci darà certamente delle soddisfazioni. E noi vecchi non abbiamo altro scopo nella vita. Hai pensato, piuttosto, dove potremo trovargli una moglie adatta? Non credi che lontano e in fondo al bosco potrebbe esserci qualcuno della nostra razza?» «Credo che esistano ancora delle lumache nere», rispose papà lumaca. «I lumaconi neri senza guscio, ma sono così volgari e si danno un sacco di arie. Ma possiamo incaricare le formiche, che corrono sempre avanti e indietro, come se avessero qualcosa da fare. Quelle troveranno certo una sposa per il nostro lumachino». «Ne conosco una veramente bellissima», disse una formica. «Ma ho paura che la cosa non sia possibile perché si tratta di una regina». «Non fa niente», esclamarono i vecchi. «Ha una casa?» «Ha un castello», rispose quella. «Il più bel castello che una formica abbia mai avuto, con settecento corridoi». «Tante grazie», fece mamma lumaca. «Nostro figlio non dovrà abitare in un formicaio. Se non hai in vista niente di meglio, daremo l'incarico ai moscerini bianchi, che volano sempre intorno con la pioggia e col bel tempo, e conoscono il bosco di foglie di farfaraccio da cima a fondo. C'è una sposa che farebbe per lui», dichiararono i moscerini bianchi. «A cento passi d'uomo da qua, su un cespuglio di uva spina, è posata una lumachella con tanto di casa, sola sola e in età da marito. È soltanto a cento passi d'uomo da qui». «Fatela venire», ordinarono i vecchi. «Lui possiede un intero bosco, mentre lei non ha che un cespuglio». Quelli andarono allora dalla lumachella da marito. Ci vollero otto giorni perché arrivasse, ma il bello era proprio questo, così si poteva vedere che era della razza giusta. Furono dunque celebrate le nozze. Sei lucciole fecero lume meglio che potevano, ma per il resto fu una cerimonia molto intima, perché i due vecchi non potevano sopportare la confusione e il chiasso. Mamma Lumaca tenne però un bellissimo discorso. Papà Lumaca era troppo commosso per parlare. Diedero poi loro in eredità tutto il bosco di foglie di farfaraccio, dichiarando, come avevano sempre detto, che quello era il più bello del mondo e che se fossero vissuti onestamente e come si deve e si fossero moltiplicati, un bel giorno si sarebbero trovati coi loro figli al castello e sarebbero stati cucinati e deposti neri neri su un vassoio d'argento. Terminato il discorso, i vecchi si ritirarono nella loro casa e non ne saltarono più fuori, dormivano. I giovani sposi regnarono nel bosco ed ebbero molti eredi, non furono però mai cotti e non furono mai deposti su un vassoio di argento e perciò conclusero che il castello era crollato e che la razza umana si era estinta nel mondo. Nessuno li contraddisse, non si poteva dubitare che fosse la verità. La pioggia batteva certo sulle foglie di farfaraccio per divertirli con il suo tam-tam e il sole brillava solo per colorare il loro bosco. Così furono molto felici e fu felice l'intera famiglia. Ecco tutto.